Sono due i giovani sanzionati perché trovati all'interno dei bus pubblici senza Green Pass. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri. Sarà un periodo indubbiamente di superlavoro per le forze dell'ordine. Da qui fino a tutte le festività natalizie ce lo conferma il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. È ovvio che vadano comunque osservate delle particolari cautele, forse proprio in questo momento ancora più delicate perché come sappiamo non siamo usciti dalla pandemia e quindi è necessario avere dei comportamenti prudenti soprattutto nelle prossime festività e in occasione anche del Capodanno. Ma questo non ci deve impedire di fare, di svolgere una vita normale con precauzioni. Come si devono comportare i suoi buon cittadini per le feste di Natale? Capodanno sappiamo che non ci sarà una festa di piazza ma insomma la gente si ritroverà. Sì, sicuramente dal mio punto di vista si devono comportare come si sono comportati finora perché sono molto soddisfatta. C'è stato un sostanziale rispetto delle regole da parte di tutta la cittadinanza, dell'osservanza di quelle che sono le misure precauzionali perché sono misure che vanno a vantaggio di noi tutti e dell'intera collettività. Per cui si può fare tutto ma si deve fare con prudenza. Quindi utilizziamo i dispositivi di protezione e soprattutto chi ancora dovesse avere qualche perplessità vada a vaccinarsi.